Salve a tutti, qui è Fabrizio Bigliotti. Oggi insieme a Persio Burkinski, nome italianissimo. Persio Burkinski è tipicamente italiano, il mio è tipicamente polacco, polacco o russo. No, stiamo scherzando. Io e Persio siamo professori da molti anni, persi più di me, della scuola Millennium che oggi è il centro linguistico della Facoltà Cheppi e Paceco, della Facoltà Trilogica Cheppi e Paceco. Persio è professore anche di, non solo di italiano, ma di inglese e di francese. Lui è traduttore, interprete, professionista e poi anche amministratore di imprese. Io già mi sono presentato tante volte, quindi non ce n'è bisogno. Ma oggi siamo qua per dare continuità, per continuare un po' l'argomento di cui abbiamo trattato la settimana passata. Voi sapete che nella scuola Millennium e anche nei corsi della Facoltà Trilogica Cheppi e Paceco noi offriamo vari tipi di corsi e noi, poi lo vedremo nel finale, comunque inizieremo la prossima settimana un corso sui blocchi psicologici riguardanti principalmente l'apprendimento. Nel nostro caso apprendimento di lingue, possiamo dire. È un corso molto importante anche perché la questione, diciamo così, dei blocchi psicologici è una cosa molto comune. Noi, quando ci sono studenti che vengono nella nostra scuola, Persio, mi dicono Ah, io ho già studiato, non so quanto tempo, ma non so niente, non riesco a parlare, non riesco così ad esprimermi con molte difficoltà. Quindi è un problema, diciamo, questo dei blocchi anche nell'apprendimento, nel caso specifico di lingue, ma poi vale anche per altre circostanze. Vale per l'impresa. Ci sono molte persone che hanno difficoltà di crescere nell'impresa, oppure di fare un corso di più perché non hanno tempo, sempre hanno qualche scusa per non svilupparsi. Questo è comune dappertutto, non solo con le lingue. Infatti nei nostri corsi, penso che succede, la persona non solo studia le lingue, per esempio, ma attraverso anche un po' quei temi di cui noi trattiamo appunto durante le lezioni, la persona comincia a percepire molte questioni riguardanti, per esempio, la vita lavorativa, la vita anche proprio delle relazioni così interpersonali e quindi è anche la salute, no? Sì. Grandi benefici. Anche interpersonale, perché tu hai detto, molte persone dicono, Ah, io non riesco a trovare la persona, io... La mia anima gemella. La mia anima gemella. Io non riesco... perché? Perché sempre cerco qualcuno che è sbagliato per me. Lo stesso problema nella lingua è lo stesso problema nelle relazioni. E possiamo dire che sostanzialmente è un concetto legato soprattutto alla questione affettiva. Quindi qualunque cosa si faccia nella vita, quando si studia una lingua, quando si lavora, quando ci rapportiamo, ci relazioniamo ad altre persone, diciamo che la base, l'origine del problema è sempre la stessa. È una difficoltà che le persone hanno, prima di tutto, con la parte affettiva, no? E il, diciamo, libro su cui noi oggi basiamo questo nostro, diciamo, intervento, questo nostro incontro, questo nostro incontro è il libro La Glorificazione, che per il momento è... abbiamo posto la copertina in portoghese, ma molto presto ci sarà anche in italiano. È già stato tradotto e è in fase così di... lo stiamo finalizzando, stiamo terminando. Allora, ricapitolando un poco quello di cui abbiamo parlato la settimana scorsa, è importante anche percepire che, per esempio, nella metodologia anche di studio delle lingue, o comunque nella nostra metodologia di studio anche dei corsi della facoltà Cheppi e Paceco, la trilogia analitica è, diciamo, il punto, la base fondamentale, no? E come abbiamo visto la settimana scorsa, esistono tre basi, sostanzialmente, della conoscenza. La teologia, la filosofia e la scienza, ok? Questi tre punti fondamentali, diciamo così, della conoscenza umana e tre aree fondamentali anche della società. E Norberto Cheppe nel suo lavoro, che è transdisciplinare, possiamo dire, no? Riporta questi tre settori insieme, non separando come oggi, come succede oggi, la scienza è separata dalla teologia, dalla filosofia. Sono tre aree apparentemente... che apparentemente non hanno relazione una con l'altra. E Norberto Cheppe mostra invece, no, che i principi che valgono nella teologia sono gli stessi che valgono nella filosofia e gli stessi che valgono nella scienza. Eppure se non c'è... se c'è un problema in uno di questi, allora c'è un problema in tutti gli altri. Esattamente, quindi... E allora, ritornando, vi ricordate la settimana scorsa, abbiamo un poco visto che cosa sono i blocchi psicologici. E avevamo visto che sostanzialmente l'essenza umana, come vediamo nel prossimo slide, Filippi, prossimo slide, grazie, allora qui abbiamo praticamente, diciamo, un cerchio, dove al centro troviamo il bene, la verità e il bello, che rappresentano che cosa? L'essenza dell'essere umano. Quindi, noi praticamente nasciamo con questi elementi, non è perso, cioè già nasciamo con questi elementi, non abbiamo bisogno di, per esempio, il bene, di ricercare il bene in elementi esterni, già esiste dentro, così come la verità, così come la bellezza, eccetera. E allora che cos'è, per esempio, il male, come vediamo sopra? Il male è un attacco al bene, alla verità e al bello, cioè il male è un attacco alle cose che già esistono. È interessante questo concetto di Keppe, ma molta gente dice, ma come? La persona, se non impara, noi dobbiamo insegnare che cosa è il bene per i bambini, ma tutti quelli che hanno bambini sanno come funziona. Come funziona, penso che io non ho bambini, tu hai un figlio. Com'è? Allora, sempre, per esempio, se c'è un problema a casa, se c'è un qualche problema a casa, e tu arrivi alla casa e dici, ma chi l'ha fatto? Qual è la prima risposta che il bambino ti dà? Io no. No, e allora tu non hai bambino, ma sei stato un bambino. Sono stato un bambino. Tu stai dicendo che io mi comportavo così, mi comportavo, perché oggi... Allora, lui dice io no, ma perché lui dice io no? Perché non dice no, io non l'ho fatto io, perché sa che è sbagliato e sa che deve fare qualcosa per correggere. Per correggere. Allora, se lui sa che è sbagliato, come sa che è sbagliato se nessuno l'ha insegnato? Da dove viene questa coscienza, questa consapevolezza? Esatto, se sa che è sbagliato è perché sa quello che è giusto. Esatto. E allora se sa quello che è giusto, da dove viene questo? E quindi alla fine sa anche come si deve correggere. Esatto. Non è che noi facciamo quello che è giusto. Noi non facciamo il bene, non facciamo il vero, non facciamo il bello. Però sappiamo che cosa è. Perché? Perché sta dentro di noi. Sta dentro di noi. Quindi in fondo anche per esempio, parlando anche del processo di apprendimento per esempio delle lingue, è la stessa cosa, no? Cioè quando una persona... A volte in certi casi ci sono studenti che dicono Ah professore, guarda, io non voglio parlare, perché se parlo dico tutto in maniera sbagliata. Dice, vabbè, ma prima di tutto, com'è che impari? Prima di impari, praticando, e praticando che succede? Percepisci che cosa è sbagliato. E quando percepisci che cosa è sbagliato? Perché già sai quello che è giusto, quindi sai come correggervi. Quindi in un processo di apprendimento, il male, che cos'è? E quando per esempio una persona si oppone a che cosa? Alla pratica. Che cos'è il bene in quel momento? È l'azione che deve essere fatta. Senza azione, ovviamente non esiste nessun risultato, per esempio, no? E allora la persona soffre, così si blocca. Professore, io non so, quando magari io faccio un esercizio di grammatica, io riesco a farlo bene, però quando devo parlare non mi viene. Ma che cos'è parlare? Che cos'è comunicare? Beh, può avere molti significati. È trasmettere quello che io so, è fare un contatto con le altre persone. Quindi quando la persona si blocca, non è che ha solamente un problema perché non conosce, non so, la grammatica di una lingua, ma perché probabilmente esiste una resistenza a questo contatto col mondo esterno, quindi al contatto con gli altri, con le altre persone, che poi è una resistenza ad avere un contatto con il proprio interiore, con la propria vita interna. Quindi la vita interna, che rappresenta la coscienza, diciamo, sia delle cose anche buone, ovviamente, non è solo negativo, ma anche dei problemi che esistono e che bisogna in qualche maniera affrontarlo. E allora la settimana scorsa abbiamo visto come trattare di questi blocchi, diciamo così. Qua abbiamo un nuovo grafico che mostra come nella psicoanalisi, nella trilogia analitica, il problema quale è? La negazione, l'omissione o deturpazione della coscienza. Che cosa rappresenta quindi questa negazione, omissione e deturpazione della coscienza? È il rifiuto di quello che già esiste dentro di noi, che è la luce, la conoscenza del bene, quindi questo rifiuto della conoscenza del bene, che sarebbe l'invidia in termini psicologici, scientifici, cioè il fatto di non vedere. Invidia viene dal latino invidere, che significa non vedere. Quindi, attenzione a non confondere, facciamo l'idea di invidia, con il concetto comune che noi abbiamo nella nostra società. Invidia viene dal latino invidere, che significa non vedere. Quindi, non vedere il bene che noi rifiutiamo e soprattutto il male, cioè il male che è la negazione, l'omissione o la deturpazione della coscienza. Ma quello che è interessante, principalmente del male, ma quello che noi abbiamo più paura è la coscienza del bene che noi abbiamo dentro di noi. Perché? Perché quando sappiamo, quando conosciamo il bene, quando abbiamo coscienza del bene, fare il male è molto più difficile. E allora, perché noi vogliamo fare il male, allora non vogliamo avere coscienza del bene. Quindi penso che tu stai dicendo che la persona non vuole avere la coscienza del bene per continuare a comportarsi male. È come con il bambino. Esatto. Che lui sa quello che è giusto, ma non fa il giusto. Sì, esatto. E se tu lo punisci, lui dice, no ma ma sei ingiusto, quello non è... No, ma se lui ha fatto quello che non è giusto, deve essere punito. E lui non vuole... Dice, no, non sono io, perché non vuole essere punito. Ora, ovviamente i nostri studenti non sono puniti, Persio. Se fanno un errore, noi non puniamo i nostri alunni. È loro che si puliscono, non siamo noi. Ma è importante, per esempio, anche così in un processo di apprendimento, che nel processo di apprendimento, che è un'azione, è una pratica, quando si impara una cosa, sia le lingue, un lavoro, un nuovo lavoro, una professione, eccetera, nessuno, nessuno comincia a fare quel lavoro o a studiare quella lingua conoscendo la lingua o conoscendo il lavoro. Quindi, la questione è perché delle persone riescono a svilupparsi di più, ad avere anche un buon, una buona performance, come si dice in italiano, Persio, una performance, un disimpegno nel lavoro o anche nello studio e altre persone che hanno molte più difficoltà. perché noi dobbiamo ricordare che, come anche il dottor Keppe dice, diciamo, a livello della nostra essenza siamo tutti uguali. Quindi siamo dotati, diciamo, più o meno di queste ferramenta, di questi utensili del bene e della verità dentro di noi. Ora, il problema è se poi la nostra azione è coerente con questi elementi. Quindi, se, per esempio, quando una persona studia la lingua si nota, come professori, è che le persone che sono meno legate alla grammatica sono quelle che si sviluppano meglio. Perché loro non si fermano nella grammatica, nei dettagli della lingua, eccetera, ma tentano di prendere un aspetto universale della lingua, no? E in questo senso, io la settimana scorsa stavo facendo una classe su Leonardo da Vinci. Ah! No, quello che è interessante, italiano... Eh, ovviamente. Non è di Siena non è di Siena No, Vinci. Eh, è lì, è lì. 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 Ma comunque, perché lui è il genio che è stato il genio che è stato e noi non siamo come lui. Cioè, perché noi abbiamo le stesse capacità di lui, ma non siamo come lui. E cioè, è lui. E tu ti dici, no, ma per esempio, per imparare una lingua si deve imparare la grammatica, si deve studiare molto, si deve leggere. e lui non ha mai partecipato di una classe che sia, perché non si poteva. Lui non poteva, esattamente. Perché era bastardo e cioè, non poteva partecipare. Leonardo da Vinci per chi non conosce la storia era figlio illegittimo, fuori del matrimonio. Quindi, diciamo così, il padre di Leonardo era un ricco commerciante della città di Vinci, però, proprio perché era nato fuori, diciamo, da un'unione regolare, diciamo così, lui non poteva, Leonardo da Vinci, non poteva, così, frequentare le scuole tradizionali. E che cosa si studiava a quell'epoca? Il greco e il latino nelle scuole tradizionali. E tutti i libri scientifici erano in greco e latino. Quindi, Leonardo approfittò, diciamo così, della biblioteca che il padre, credo, avesse messo a sua disposizione per studiare come autodidatta. E tutto, e osservando le cose, osservando la natura, osservando, cioè, lui ha imparato senza studiare. Esatto, senza, diciamo, gli studi così ufficiali. formali. E formali. E questo è interessante, perché, che cosa dimostra questo? Che quello che è fondamentale in un processo così di apprendimento è l'azione, agire, fare, chiaramente. Quindi, questo è il primo elemento. Allora, continuando, adesso, ci sono, diciamo, abbiamo, presto vedremo un video, ma c'è questa frase, Roberto Cheppe, che dice, niente è conosciuto se non è amato. Persio, com'è che si può spiegare ai nostri amici dall'altro lato questa frase? Niente è conosciuto se non è amato. Perché come tu puoi avere un, diciamo, un interesse, imparare qualcosa, se tu non ami quello, quello soggetto, se non, non si interessi per quello. Allora, per conoscere devi amare prima, perlomeno amare la conoscenza, se non ama, per esempio, molta gente dice, ah, io non amo l'inglese, come imparo l'inglese se non lo amo? Eh, no. No, ma non è amare la lingua, è amare conoscere, amare crescere, amare sapere di più, cioè, non è la lingua in specifico, può, forse la persona non ama l'inglese, ma può amare conoscere e allora imparerà. E per esempio, anche tutti, per esempio, parlando l'inglese, con tutti i benefici che possono venire in termini di contatto con le altre persone, di apertura, di nuove prospettive nella vita, eccetera. Quindi, la persona, per esempio, è chiaro che l'amore è necessario, ma la persona deve apprendere ad amare quello che fa. Se la persona non si pone in azione, la persona veramente non avrà quella percezione e quindi lei avrà, e questo che è importante, per avere la conoscenza, io devo amare, però, diciamo, amare è un'azione, non è semplicemente amo, amo, amo. Noi italiani, così, parliamo sempre di amore, 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 anche Norberto Keppe scherza, dice, eh, gli italiani, amore, 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 non è proprio amore, 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 amare è agire, fare. Quindi, se io non mi metto in azione, è impossibile che io conosca e quindi, ovviamente, non potrò, diciamo così, sapere veramente quello che io sento in relazione a quello che faccio. Adesso vediamo un video, un programma di TV, dove Norberto Keppe, appunto, spiega meglio di tutti noi che cosa significa questa frase. Io voglio di spiegare qualcosa che io credo che è un grande engano, principalmente da filosofia, da questione del conhecimento. A filosofia in generale, mesmo questa filosofia perfeita, che si chiama scolastica, che viene tanto di Platone come di Aristotele, e tomano di Aquino e Anselmo, principalmente, questa filosofia, dice il seguente, che niente è querido che non sia conosciuto. Quindi, mettere la questione del conhecimento come la base della vita. Quindi, io colochei una frase al contrario. Io studi questa questione nella psicopatologia, e notei che il conhecimento viene da emozione di amor, principalmente del amor, del affetto. È per questo che la questione di gustare, gustare del mondo, gustare della vita, gustare di una persona, a gustare di tutto, significa un conhecimento che la persona va tendo attraverso questa aproximazione affettiva. Tanto assim che le persone sabie sono le persone che hanno più amore nel corazón. Le persone che conoscono le persone, le persone che hanno più grandi revelazioni per la humanità, sono le persone che hanno più affetto. Quindi io vorrei che a Bia mettere la sentenza che parla di questa questione. Non è conosciuto se non for amato. Quindi, lo che io voglio dire è questo, è che la questione del affetto non è stata analizzata per la filosofia, perché non diceva a rispetto alla vita intellettual, al conhecimento, e la persona solo conosce realmente quello che la ama. Quindi, la persona è doente, che ha molta rarva di una persona, quindi non ha la nulla idea come è quella persona. Ora, se la piace del altro, anche se sia il inimigo di questa persona, se la piace, quindi è capace di rilevare l'odio che quella persona ha per lei. Comprende? Quindi, è la questione dell'amore che la persona ha che fa un vero conoscimento. Che bella spiegazione! È molto interessante quindi vedere che quello che impedisce la nostra conoscenza sono tutte quelle emozioni di rancore, di rabbia, di angoscia, di irritazione, che noi nutriamo nei confronti di altre persone o di altre situazioni. E sono questi elementi che rendono più difficile l'apprendimento. Prima di tutto non conosciamo gli altri e poi anche quando, per esempio, impariamo una professione, impariamo una lingua, questo diventa più difficile, no? Eh, le persone che producono molto, quelli che, gli artisti, per esempio, devono amare molto perché se non amano non è possibile fare. Come Morricone, che ha detto questo fine settimana. Immagini, quello che lui ha lasciato per noi, la sua musica, è eterno. Eterno. È un amore eterno. è, infatti, detto Morricone, è morto a 92 anni e credo che lui abbia fatto l'ultimo concerto, abbia diretto l'ultimo concerto, se non mi sbaglio, in aprile o maggio dell'anno, dell'anno passato. Quindi lui, praticamente, fino alla fine, comunque, ha lavorato. Quindi vedete, cari amici, questo vale per noi italiani, chiamiamo lozio, che abbiamo fatto dell'ozio, un elemento di vita, ma in realtà, diciamo così, è importante invece il lavoro, l'attività, questo interesse. Quindi questo interesse che la persona ha per fare quello che fa è l'amore. È un amore. Perché? Perché poi la persona lascia, come ha detto Persio, giustamente, per l'appunto con l'esempio di Morricone, lascia una grande eredità all'umanità. Leonardo ha lasciato una grande eredità all'umanità. Verdi, Puccini, Rossini, eccetera. Questi sono, per citare gli italiani, insomma, nella musica, eccetera. Il dottor Keppi dà sempre un esempio che mi piace molto, che è del medico che lavorava nell'ospedale Das Clinicas, qui a San Paolo. il Policlinico di San Paolo, sì. E lui dà sempre questo esempio che, c'era questo medico e il suo padre era pastore della chiesa luterana e lui non credeva molto a Dio. E poi lui lui ha detto una volta al dottor Keppi che lui non si sentiva come dice, completo, perché pensava che facesse il suo lavoro, ma che c'era questo problema con Dio che lui non credeva molto, eccetera, il suo padre era pastore. e il dottor Keppi gli ha detto ma se lei fa questo lavoro che fa, fa con amore, con affetto e che guarisce tanta gente, che fa un lavoro tanto importante per l'umanità, importante perché le persone che ci vadano avevano tanti problemi e lui li curava, gli guariva, come medico, eccetera, allora facendo questo lavoro è un lavoro divino, sta facendo qualcosa anche per Dio, sta facendo una cosa che è teologica. Sì, sì, sì. Allora anche se non crede, cioè no, dico non credo, lui credeva, però anche se non crede... Diciamo non frequenta l'istituzione religiosa in una maniera così diciamo regolare, disciplinata, eccetera, non significa che la persona non stia facendo un grande bene all'umanità che quindi è una grande espressione di amore, certo. Ora, qui nel prossimo slide, nella prossima slide, diapositiva, qui ci sono le tre più grandi difficoltà per l'umanità, quindi queste sono importanti per comprendere perché si creano questi blocchi, sono l'azione pura che Norberto Kepp in questo caso recupera un concetto filosofico, l'azione pura, l'atto puro sarebbe che cosa? l'azione buona per il bene che è il centro di tutta la vita cioè quindi questo sentimento che dovrebbe esistere per diciamo in tutti i momenti tentare di fare del bene agli altri in tutte le cose che si fanno non importa che cosa facciamo. Il secondo elemento è il sentimento di amore che si manifesta appunto attraverso la realizzazione del bene e l'elemento ovviamente anche logico del raziocinio della ragione che ci permette la percezione della realtà ma attenzione noi abbiamo la percezione della realtà solo se esiste questo sentimento di amore alla base se non c'è questo sentimento di amore alla base quindi questa azione coerente noi non percepiremo la realtà se neghiamo questo amore per esempio attraverso un sentimento di rabbia nei confronti di una persona nei confronti di quello che facciamo ovviamente non avremo un raziocino corretto e quindi non giungeremo alla percezione della realtà e anche in questo quando la persona e tutti noi sappiamo quando abbiamo un'emozione molto forte una rabbia è meglio dicono si deve dire fino a 10 o respira fogo fai un giro e poi dopo allora usi la ragione perché perché nell'emozione noi facciamo lo sbaglio non abbiamo la percezione chiara della realtà facciamo molte stupidaggini ecco allora l'amore quando la persona ha amore allora usa anche la ragione quindi tu stai dicendo che per esempio non è che una persona deve sentire sempre amore in certi casi non sente amore sente delle emozioni incontrare però in quel momento è importante questa dialettica questo dialogo appunto con la parte diciamo affettiva perché la persona possa calmarsi e avere un atteggiamento giusto giusto questo succede molto anche nelle classi durante le lezioni no per esempio ah professore io non riesco quando sono in classe professore non riesco a imparare perché quel collega mi irrita molto io non riesco a fare attenzione a quello che lei dice è interessante questa cosa no che cosa è che quel collega rappresenta dentro la persona eh professore ma perché quello disturba tutta la lezione interrompe continuamente allora comprendendo il meccanismo psicologico che cosa sta facendo in questo momento lo studente sta vedendo nel collega che diciamo così irrita quello che lui fa che lui interrompe che lui non si concentra la difficoltà che lui ha di concentrarsi e metti il problema nell'altro dice no io sono no io voglio imparare io voglio ma è lui che non mi lascia imparare esatto e per esempio che cosa è che ostacola tornando di nuovo alla diapositiva che cosa è che ostacola quindi questo processo la pigrizia vedete là in basso là sotto la pigrizia per esempio professore io non sopporto quel collega non studia cioè io io non lo so non studia niente insomma rallenta tutto il processo della lezione eccetera eccetera quindi è molto pigro quel collega che cosa è che la pigrizia di quel collega sta risvegliando dentro di me la coscienza e probabilmente della mia pigrizia per esempio no ma questo è molto interessante perché quando molta gente dice no ma sai io non sono come lui eh no io sono molto diverso e a volte come dire esteriormente è diverso una persona può essere molto timida l'altro molto sveglia estroverso esatto ma e che sono completamente diversi cioè esteriormente ma internamente quello che lei fa con le sue conoscenze allora è uguale a quello che lui fa alla fine il risultato è lo stesso anche se perché l'attitudine esterna non è la stessa che l'interna esattamente quindi sempre diciamo il mondo esterno risveglia dentro di noi la coscienza di qualcosa eh poi abbiamo visto la pigrizia l'invidia abbiamo già parlato dell'invidia dell'irragionevolezza la mancanza diciamo così di un atteggiamento diciamo così irragionevole eh che porta questi diciamo questi atteggiamenti negativi eh portano diciamo a questi blocchi anche nell'apprendimento ovviamente creano molte difficoltà insomma nel processo di apprendimento di una persona quindi la soluzione quale sarebbe la coscienza di questi elementi può essere che noi siamo pigri o siamo anche invidiosi o siamo delle persone che irragionevoli diciamo così ma questo non significa che noi non possiamo correggere è davvero perso quindi non possiamo correggere queste cose il problema non è avere il problema il problema è non vedere il problema che si ha eh perché quando si vede che succede si si corregge quindi questo che è importante eh se io per esempio sto studiando una lingua è vero che ho delle difficoltà non aspetto della lingua eccetera beh che cosa devo fare prima di tutto primo numero uno riconoscere che ho difficoltà punto numero due sforzarmi cioè deve essere l'azione quindi questa è anche una manifestazione di amore lo sforzo che si fa per correggere e superare le difficoltà voi pensate che esiste qualche persona chi studia lingue per esempio o ha studiato anche altre cose e pensa ah quel no il mio compagno di classe lui è più è più dotato diciamo così è più ha più ha un dono eh io no io per questo che ho difficoltà io no perché non ho questo dono ma lui che ha il dono riesce a imparare più più rapidamente no è lo sforzo che è necessario quindi è l'amore l'amore eh e continuando leggiamo quindi adesso così dei brevi brani è dal libro La Glorificazione la psicanalisi integrale è stata costruita interamente nell'ambito della sperimentazione giungendo alla conclusione che il sentimento la religione è il fattore fondamentale dell'essere umano quindi quando si parla del sentimento dell'amore non si può eh persio non si può separare questo da che? dalla sperimentazione e la sperimentazione è l'azione l'azione quindi cioè non è che io per esempio imparo una professione o imparo una lingua persio oggi io sto aspettando una ispirazione io posso aspettare eternamente l'ispirazione perché non verrà quando si pensa a Leonardo da Vinci ai grandi musicisti ai grandi filosofi da dove viene l'ispirazione? dal lavoro dall'azione quindi è nell'azione che si manifesta questo amore per cui questi per esempio come Borricone o da Vinci che hanno lavorato tutta la vita cioè fino alla fine perché perché loro stanno sempre cercando di migliorare 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 e allora è un lavoro della vita tutta la vita con Sari lunedì passato lunedì scorso abbiamo fatto appunto la stessa diciamo la stessa lo stesso incontro in portoghese io davo l'esempio della chitarra io ho domandato ai partecipanti al pubblico ho detto quanti di voi hanno già tentato per esempio di suonare la chitarra immaginando i grandi eroi i nostri idoli che suonano e noi ci immaginiamo sul palco suonando facendo quegli assoli incredibili allora con questo entusiasmo noi diciamo ai nostri genitori papà mamma voglio una chitarra il primo mese prendiamo la chitarra tentiamo 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 però poi dopo vediamo che esistono molte difficoltà e generalmente probabilmente nel 90% dei casi o più la chitarra dopo un mese in un angolo della casa dove rimarrà eternamente quindi questo mostra che non esiste niente senza lo sforzo non otteniamo nessun risultato senza questo sforzo ora la prossima il prossimo sempre brano l'intelletto il verbo è l'intermediario e la coscienza la scienza è ciò che è utilizzabile per giungere a tutto ciò formando una triade inseparabile ok vediamo la prossima tuttavia il sentimento che è l'amore è la base di tutto qualora esso l'amore venga ostacolato dalla superbia dall'invidia e dall'odio avremo il malato disorientato e confuso quindi questo diciamo così ci mostra come di fatto il processo così di apprendimento questi blocchi alla loro alla loro origine hanno questa negazione che viene da vari fattori diciamo a origine di vari fattori ma diciamo se noi vogliamo avere come dire una specie di come posso dire un riferimento eccetera pensiamo questo tutte le volte che io mi sento irritato che io sento rancore nei confronti di una persona o mi sento o mi sento angosciato per qualche motivo o triste anche diciamo così devo pensare che questo già è un segno queste emozioni che la mia coscienza mi manda che mi sta mostrando qualcosa di sbagliato qualcosa che io devo vedere e che questo sarà il segno di una malattia di una confusione perché perché se la persona allora nega questo amore che ha comincia tutti i problemi ma può ritornare se percepisce lo sbaglio ritorna all'amore esatto e vediamo l'ultima l'ultimo slide l'ultima diapositiva perché comunque nel processo di apprendimento esiste una cosa fondamentale che Norberto Keppe sta riportando così alla luce che probabilmente noi esseri umani abbiamo dimenticato che è l'importanza dell'estetica dell'arte come si vede nel grafico nel processo di apprendimento esiste un elemento la trascendenza dove c'è scritto la transtipi questi transtipi non sono altro che quello che oggi diciamo Norberto Keppe chiama gli elementi universali quindi questi elementi universali sono dentro di noi in maniera uguale tutti noi abbiamo questi elementi universali la bellezza la bontà la verità noi ce li abbiamo quindi quello che è importante è che noi vogliamo e tentiamo di mantenere contatto con questi elementi e come è che si mantiene questo contatto venendo di nuovo il grafico attraverso l'estetica l'estetica perché per Norberto Keppe l'estetica non è solamente dei quadri nei musei o delle belle sculture e ovvio sono importanti voglio dire l'architettura eccetera ma l'estetica proprio perché è un elemento interno diventa come dire l'espressione di dentro verso il fuori di un equilibrio di un'armonia quindi noi possiamo pensare anche di avere estetica non solamente per esempio perché siamo pittori o scultori eccetera ma estetica quando lavoriamo come per esempio un ambiente di lavoro creando un ambiente armonico per creare un ambiente gradevole dove si possa lavorare in una situazione di una lezione per esempio una lezione a scuola creare un ambiente gradevole energeticamente per tutti perché perché quando tutti sono in questa risonanza in questa energia tutti noi come professori sappiamo bene che questo fa un enorme differenza quando gli alunni si trovano in sintonia tutti crescono la classe veramente cresce insieme quindi questo è un altro elemento anche per dire che per esempio questa situazione che noi si vive oggi di isolamento non è naturale non è naturale e non può essere imposta come una situazione naturale quello che è naturale per l'essere umano è la relazione questa interazione che esiste perché è uno scambio energetico di questo è un elemento di cui parleremo nel corso che comincerà lunedì prossimo il 13 di luglio proprio su questi blocchi psicologici nell'apprendimento è interessante quello dell'estetica solo per finire la questione che la propria lingua ha un'estetica l'italiano principalmente l'italiano francese ma l'italiano ha un'estetica allora anche questa questione di grammatica che le persone che pensano è matematico grammatica quello che è giusto quello che no la lingua è estetica allora se la persona capisce l'estetica della lingua è capace di parlare e di usare in modo giusto senza sapere esattamente che cosa è la grammatica perché è bello perché è più bello perché suona più bello suona infatti la lingua ha una musicalità vero quindi la musicalità è un elemento estetico già è armonico quindi vedete l'importanza diciamo del bello dell'estetica come proprio un elemento che ci permette di accedere di arrivare alla parte più elevata che è quella trascendentale eccetera e quindi si può dire che ritornando al nostro grafico quindi l'estetica è legata al sentimento all'amore che è legata alla verità alla ragione ricordando che proprio noi anche proprio strutturalmente fisiologicamente abbiamo un organismo un organo principalmente che è il nostro cervello che è fatto è predisposto proprio a questo l'emisfero destro è legata al sentimento l'emisfero sinistro alla parte logica alla parte della ragione che devono lavorare in equilibrio quindi deve esserci un'estetica anche proprio a livello così della nostra raziocinio e che quindi questo porta al processo della conoscenza e come si vede nel grafico tutti i settori tutti 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 nessuno escluso diciamo così hanno alla base gli stessi principi non importa se è la politica l'economia il diritto la medicina la matematica non esiste questa schizofrenia della conoscenza che è schizofrenia tutti i settori divisi la politica che non ha niente a che vedere con la medicina la medicina che non ha niente a che vedere con il diritto poi persio anche lui adesso sta cominciando un corso di post laurea di specializzazione in inglese ma di diritto quindi vedete che noi applichiamo tutti i principi universali a tutte le aree anche proprio nei nostri corsi quindi la matematica la pedagogia la storia tutti questi settori non possono essere differenti perché alla base hanno gli stessi principi quindi la differenza è una differenza puramente esterna e terminando chi vuole può comunque vedere nel link accedere al link entrare e ricevere in omaggio un libro in pdf che è tradotto in italiano il ruolo dell'interiorizzazione nel processo di apprendimento scritto da Sari Koebukangas una delle nostre professoresse che è un papel da interiorizzazione uno processo di apprendizio e ricordando l'ultimo che se volete imparare più più rapidamente questo corso che inizierà il 13 luglio che è come affrontare i blocchi psicologici nell'apprendimento può aiutare tutti voi non solo chiaramente a percepire meglio diciamo l'origine di questi blocchi ma diciamo così anche non solo nelle lingue ma anche in qualunque altro settore della vita va bene quindi è stato molto bello stare con voi se poi ci sono delle domande che voi avete noi abbiamo Filippi che stamperà e magari nel prossimo incontro risponderemo io ringrazio penso che oggi magari spero che anche il prossimo incontro ci sarà di nuovo spero di sì va bene e un saluto a tutti e alla prossima ciao 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 ciao